Bene, ciao a tutti, io sono Abbo, faccio parte del Laboratorio Off Topic. In questi due anni abbiamo lavorato sul tema di Expo, in particolare non tanto come singolo evento, ma come chiave di lettura, come processo che ci aiuta a comprendere come sta mutando la città di Milano. Ora, in un minuto, se vi fidate, tento un'operazione esperticata di raccontarvi la storia di Expo e poi veniamo appunto al tempo 2015 e al luogo che è Milano. Siamo? Va bene, un minuto più i tempi tecnici ovviamente. Va bene, dai, comincio poi intanto arriva la presentazione. Noi abbiamo guardato ad Expo come linguaggio e come luogo del capitale. Quindi Expo nasce 150 anni fa in una sorta di conflitto. C'è stata una fase in cui i grandi eventi erano più lontani di quello che sono oggi e quindi quando nascono le Olimpiadi, nascono come luogo per sublimare il conflitto nascente tra nazioni in un'epoca coloniale, quando nasce Expo qualche anno prima, nasce come linguaggio dei fermenti del momento, cioè invenzioni, scoperte, idee, a partire dagli anni 50 e dell'Ottocento, si raccontano in un luogo. Tant'è vero che anche oggi a livello accademico si usa dire che il grande evento è l'unico evento capace di attrarre persone, informazioni, media e intercettarle in un solo punto nel mondo. Non importa a quale cultura tu appartenga, in quale luogo, famiglia e storia del mondo tu sia nato. Quando c'è un'esposizione universale, quando c'è un'Olimpiade, quando c'è una finale dei mondiali di calcio, lo vieni a sapere e questa cosa dovrebbe in qualche misura interessarti. Allora, per comprendere l'Expo di Milano, siamo andati a guardarci tutte le esposizioni storiche di questi anni e a partire da quel conflitto per qual era la capitale europea del momento tra Londra e Parigi, siamo andati anno dopo anno a guardarci i luoghi, i temi, i titoli delle esposizioni, individuando cinque fasi, il tutto tagliando un po' con l'accetta, però ce la siamo un po' studiata. La cosa che viene fuori, la storia, insomma, anno per anno, day by day ve la salto, quello che viene fuori è che ci sono dei temi, ci sono delle fasi, ci sono dei momenti nella storia delle esposizioni che raccontano come si è sviluppato il capitale in questi 150 anni e quindi l'età dell'agricoltura e dell'industrializzazione, quella della modernità e delle invenzioni del passaggio del secolo del 1900, quella dei trasporti, via terra, via acqua, via aria, quella della città, dello spazio del progresso, che invece è la conquista di tutto ciò che stava oltre la superficie del globo, questo fino a Osaka, cioè fino al 1970 c'è stato questo tipo di parabola dell'esposizione, con la sola eccezione di Shanghai nel 2010, che evidentemente per il contesto di appartenenza e per il ruolo simbolico che aveva ha delle proporzioni di scala che stanno al di fuori di tutta questa storia, a partire dal 1970 da Osaka calano non soltanto le visite, ma muta completamente l'ambito di intervento delle esposizioni. L'ambito di intervento muta perché l'expo, non da un punto di vista evidentemente territoriale, ma di significato si smaterializza, cioè non serve più quel luogo, quella città, quel momento per raccontare le idee, le innovazioni, le invenzioni. Quando bisogna portare il trattore in tutte le campagne del mondo, serve un luogo in cui l'azienda produttrice lo presenti. Quando bisogna portare in giro l'invenzione della tecnologia con cui far andare i primi razzi spaziali, serve un luogo. Evidentemente invece dagli anni Ottanta in poi questo luogo non c'è più perché ci sono altre le autostrade su cui viaggiano le informazioni e l'expo di oggi lo racconta meglio di qualunque altra. Quindi da Osaka in poi l'expo gioca su un nuovo terreno, che è quello del rapporto tra uomo-territorio, della sostenibilità, dei problemi legati all'antropizzazione. L'expo di Milano, d'altronde, si inserisce in questo solco, in questa parabola discendente della storia delle esposizioni, però ha anche un altro contesto di elezione, che è quello delle trasformazioni avvenute in città negli ultimi 10-15 anni, legate da una parte a grandi poli di sviluppo urbanistico, quindi al tentativo di rigenerare tutte le funzioni esaurite della città, e dall'altra legata alla città festival, cioè al tentativo attraverso questi appuntamenti, di cui il fuori salone è sicuramente uno dei più importanti, ma ne stanno nascendo di nuovi, il mito, Book City, Piano City Milano, eccetera, eccetera. E quindi questa esposizione di Milano 2015 possiamo guardarla alla convergenza di queste due storie. Una è la storia della tradizione delle esposizioni universali e l'altra è la tradizione invece quella della Milano degli anni 90, della Milano dei grattacieli che non c'erano, della Milano appunto della città festival, quindi una città che si vorrebbe metropoli e che coglie l'occasione di ciascuno di questi piccoli grandi eventi per darsi un ritmo, un ritmo di trasformazione. Evidentemente quindi il significato di Expo oggi a Milano non è più quello di un linguaggio per raccontare l'innovazione del capitale, non soltanto almeno, ma è una grande operazione di marketing territoriali per rinverdire un'immagine turistica della città. Cioè la scommessa sull'eredità dell'evento, che è più importante evidentemente dell'evento stesso, è quella di offrire al turismo internazionale un'immagine della città nuova, più fresca. Vediamo un attimino perché questa cosa non funziona e vengo qui al tema appunto dei pubblici, portando un pochetto questo esempio. Milano per fare, come dice la pubblicità, un grande evento ci vuole un grande pubblico e quindi la scommessa di Expo era quella di intercettare 20 milioni di persone, inizialmente si diceva 35 ma poi c'è la crisi eccetera, ed era di intercettare questi 20 milioni di visitatori che però al netto di chi ritorna più volte fa 27, perché questo è il calcolo della società, lungo i sei mesi dell'evento. Come funziona l'evento? All'inizio che è il primo maggio e alla fine che è il 31 ottobre. E hai quindi 180 giorni di tempo per intercettare questi 20, 25, 27 milioni di persone. Milano è provincia, ha 60.000 posti letto, alberghi, ostelli, campeggi eccetera eccetera. Se noi facciamo il conto, diciamo che non funziona così di solito, ma diciamo che tutti i giorni si fa il pienone, se voi fate 50-60.000 per 180, arriviamo a 9-10 milioni di posti letto. Poi evidentemente ci sono forme di residenzialità leggera, che chiaramente però un conto è metterle in campo, ospitare qualcuno sul divano letto 4 giorni, e un conto è farlo per 6 mesi continuativamente. Quindi sono forme inedite che chiaramente hanno un loro valore, una quota aggiunta, ma su cui non si può, come fa la società Expo, riprodurre il calcolo che si fa per 4 giorni e per 6 mesi. Io non lo farei a casa mia. Quindi diciamo che si scommette sul portare a Milano 27 milioni di persone, si ha la disponibilità di posti letto per 9-10 milioni di persone, e poi entriamo nel vivo di chi sono queste persone ovviamente, perché il grande evento, dicevamo, nasce per intercettare media, interessi, ma soprattutto persone a livello globale. Secondo i calcoli della società Expo, che poi ovviamente ha commissionato a chi se ne occupa, Camera di Commercio, Università, eccetera, eccetera, soltanto il 30% dei visitatori saranno non italiani, saranno stranieri, e di questo 30%, soltanto il 40%, quindi il 12% di questi 27 milioni, saranno extraeuropei. Che cosa significa questo? Significa che l'Expo di Milano è un Expo assolutamente nazionale. Non è un grande evento, inteso né in termini storici, né nei termini delle esposizioni ospitate nel sud-est asiatico negli ultimi 15 anni. È un'esposizione che verrà frequentata per metà dei suoi visitatori da persone che abitano nel centro-nord dell'Italia e per la restante parte a scalare nel centro-sud, in Europa, prima mediterranea, poi continentale, e infine all'estero con una evidente sproporzione di partecipazione da parte dei cinesi per dei motivi che potete immaginare. Quindi, diciamo che l'Expo milanese è un'anomalia, un'anomalia perché le esposizioni degli ultimi 20 anni, che sono quelle su cui nello scrivere il libro Ex Popolis, l'anno scorso ci siamo basati, sono esposizioni che stanno appunto o nel sud-est asiatico, cioè nei luoghi emergenti del capitale, o nelle piccole e medie città dell'Europa mediterranea. Difficilmente le grandi capitali europee, cioè difficilmente le metropoli, oggi ospitano l'esposizione, perché siamo in una fase differente. Allora, ipotizzare quando hai 60.000 posti letto di ospitare 150.000 persone ogni giorno, tutti i giorni, significa sostanzialmente non fare delle stime credibili, ma significa contribuire a generare un sistema di aspettative. Le aspettative sono il mantra di Expo, cioè tutto ciò che va dall'hashtag, alla costruzione degli immaginari, al gioco della smart city, della realtà aumentata, dell'Expo 2.0, è un mosaico di contenuti e contenitori che giustifica un sistema di aspettative. Sono anni di attesa in cui si fa tutto ciò che è necessario per non spiegare come funziona la fiera, ma per creare un'attesa, per creare un interesse, per creare una sorta di afflato libidinale nei confronti di questa roba qui, che non è più una fiera, non è esattamente un processo che investe la città, perché territorialmente si colloca soprattutto al di fuori, ma che in qualche misura non si sa come deve interessare tutti quanti. Allora, per scardinare evidentemente, come dire, la materialità invece del grande evento, che noi abbiamo provato a sintetizzare con alcune parole chiave, che sono debito, cemento e precarietà, ma anche poteri speciali, economie mafiose e tanto altro, si può fare un paio di cose. Una è provare a deviarne i flussi, e degli esperimenti in questo senso sono stati fatti anche a Milano in questi anni, e l'altro è distorcere i significati. Quindi, noi che, come dire, così nella vita, sì, facciamo un po' di lavoro di ricerca, ma siamo innanzitutto attivisti, in tante occasioni ci è già capitato, e ci ricapiterà anche a partire dalle giornate del primo maggio, di contaminare anche con i nostri corpi evidentemente i cantieri, i luoghi specifici dell'esposizione. Però ci sono altri pezzetti di Expo, con un, come dire, a fortissimo contenuto simbolico, che sono i totem che trovate in giro per la città, che sono le isole digitali, che sono tutta la cartellonistica legata alla promozione dell'evento, che vanno contaminati allo stesso modo. E quindi ora vorrei provare a proporvi, vado molto rapido per dare spazio agli altri, però vorrei provare a proporvi tre esempi di quello che si può fare per andare a distorcere i significati con cui entrano in contatto i pubblici del grande evento. Il primo è legato a un'azione fatta lo scorso 12 ottobre, quando con una critical mass, insieme a una serie di comitati, siamo entrati all'interno di uno dei cantieri di Expo, quello della Darsena. Per arrivarci, e questo è un video che abbiamo fatto che racconta l'azione Expo, abbiamo preso un video della promozione ufficiale, che sono sempre più efficaci di quelli che sappiamo fare noi, e l'abbiamo segmentato inserendoci dei pezzetti della nostra azione. E l'azione, come l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta a partire proprio dalla cartellonistica di Expo. Qual è il bello dell'evento? Una cosa che veniva citata nell'evento precedente, che sostanzialmente, per generare quell'aspettativa, non si entra mai nello specifico. Questi cartelloni dicono soltanto Milano 2015, la città di Expo, e noi abbiamo provato ad aggettivare la città di Expo con i nostri contenuti, che sono appunto, li vedete nelle immagini, alcune sono già passate, legate a questa dinamica di debito, cimento e precarietà. Cioè aggettivare come sarà la Milano 2015 città di Expo? Sarà la città in cui 110 ettari di terreno agricolo vengono asfaltati. È la città in cui dà sì lavoro, ma che è lavoro precario, volontario e sottopagato. È la città che genera 10 miliardi di euro di debito pubblico a beneficio di un evento privato. E la cosa bella è che usando questi totem e non creando, come dire, delle installazioni ad hoc che parlano il nostro linguaggio, striscioni, bombolette, eccetera, eccetera, tante persone, evidentemente innanzitutto i turisti, ma anche chi guarda con occhio poco attento informazioni poco precise, cominciano a farsi le foto a fianco ai totem che riportano questo tipo di informazioni. Il video, non teniamo l'audio appunto per motivi di tempo, però gioca anche tutto sulle immagini, tutta la retorica sull'ipertecnologia, sul grande avanzamento dei lavori, eccetera, eccetera, e sulle immagini di qual è lo stato dell'arte dei cantieri Expo a un anno del grande evento. Questo è un primo esempio. Il secondo esempio nasce un po' sulla scorta dell'esperienza fatta da Macau e prima presentata di Exponiti 2015 e nasce invece nel contesto di una delle lotte territoriali fatte sul tema dell'esposizione meneghina, che è quella no canal contro la via d'acqua, uno dei progetti, diciamo, dell'expo diffuso, del fuori expo, di quello che poi contamina il tessuto vivo della città. Non è stata un'azione ragionata. Eravamo lì a un presidio, presidio permanente, 7 di mattina, una rottura di palle incredibili, cioè faceva freddo, non venivano neanche i poliziotti a brontolare. Allora abbiamo detto diamoci da fare, anche per... No, perché poi anche la noia è un fattore... Cioè che nell'attivismo ha un peso specifico quasi pari alla repressione. E quindi abbiamo detto prendiamo i cantieri di expo, cioè prendiamo quelle cesate e abbandonate che la nostra piccola forza è riuscita a bloccare e insieme a qualcuno dei comitati li utilizziamo in tempi di Olimpiadi, un altro grande evento, quelli di soci, proviamo a utilizzarle per raccontare, insomma, che cosa si potrebbe fare dei nostri parchi invece che grandi opere legate all'esposizione universale. E questo è un po' il risultato, no? Serviva a giocare sull'assurdità di questi cantieri abbandonati e lasciati un po' lì a se stessi. Questa è la periferia di Baggio, le cesate distrutte di notte e le Olimpiadi giocate di giorno, usando i pezzetti, usando simbolicamente, diciamo, i resti archeologici di un cantiere evidentemente inutile. Il terzo esempio che volevo portare è invece un esempio attuale di cui non vi cito neanche il titolo, però mi sembra giusto fare questo tipo di chiusa, ed è legato alla necessità, che era quella che era un po' citata in chiusura dell'appello che chiamava questo incontro, di rimappare i luoghi. Allora, noi stiamo facendo questo gioco qua, stiamo costruendo un'app che giochi proprio sul senso della guida all'esposizione, dell'affiancamento, diciamo, del turista, quindi non si gioca adesso qui sul generare consenso in un circuito già di persone che poi annuiscono perché siamo fra di noi e, come dire, gioiamo delle nostre letture sofisticate. Ma va invece a intercettare un po' casualmente quelli che saranno i pubblici di Expo. A questi pubblici quella stessa aggettivazione che prima davamo con l'azione in maniera assertiva, cioè è debito, è cemento, è precarietà, è mafia, eccetera, eccetera, vogliamo invece provare a giocarlo in maniera più ambigua. Allora stiamo costruendo quest'app, che evidentemente i cui canali non proverranno dai nostri account, eccetera, eccetera, ma proverranno da quella stessa cartellonistica di Expo, in cui un passetto per volta svelare, giocare su quest'opera di svelamento della nocività di Expo. Perché fare questo? Perché innanzitutto la dimensione territoriale, anche in un'epoca di immaginari virtuali, non va sottovalutata, cioè l'impatto di Expo è anche un impatto assolutamente urbano, umano, territoriale. Quindi rimappare questi luoghi è un'operazione necessaria per restituire una prospettiva storica, urbana e umana, non soltanto ai luoghi di Expo, ma ai luoghi nostri. Cioè raccontare qual è la nocività dell'evento, proprio della dinamica evento, che si apre e si chiude con la pretesa di non avere, come dire, ricadute, invece bisogna un passetto per volta un pochino disvelarla. Quindi proviamo a deviare dei flussi, proviamo a distorcere dei significati, ma proviamo anche a rimappare quei luoghi e a disvelarne insomma in una prospettiva appunto storica cos'erano ieri, cosa sono oggi in tempo di Expo e qual è la scommessa sulla loro trasformazione domani. Proprio per dire questo, che quei luoghi, i luoghi che oggi noi stessi definiamo i luoghi di Expo, sono in realtà i luoghi di noi tutti, sono in realtà i luoghi della città pubblica, sono in realtà dei luoghi di cui riappropriarsi. Lo si fa nel momento appunto dell'azione, come loro lo fanno nel momento dell'evento, ma bisogna insomma farlo anche tra virgolette a tempo indeterminato e quindi scardinare un pochino la logica dell'evento come chiave di lettura significa ipotizzare un nostro ruolo differente a esposizione conclusa. Cioè la scommessa non è soltanto sull'inceppare la macchina dell'evento, del fuorisalone, dell'esposizione, del festival, nel momento in cui l'evento si dà. Quello è un pezzo dell'operazione. L'altro pezzo è scommettere su quale sarà l'eredità di questo evento e provare un pochino a invece immaginarne una differente. Grazie. 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 Grazie.